Buon inizio di agosto, intanto prendo l'occasione per fare a tutti i miei auguri di buone ferie per chi va. Niente, è cominciato agosto, sono cominciate le ferie e sono cominciate un po' delle questioni che vale la pena che le dica di persona. Ma ieri ho risposto al signor Ruggero Busellato, per tutte le fandonie che ha scritto, ho risposto sia per lettera sia come Procura della Repubblica perché è stato denunciato per difamazione a mezzo stampa della pubblica amministrazione. Ovviamente perché veniamo accusati di aver fatto dei reati che non esistono. E cominciamo subito da uno, visto che sempre il signor Ruggero Busellato dice che il sindaco non risponderà mai che non è vero. Allora, veniamo subito alla questione della discarica. Noi, secondo il signore, noi abbiamo dato permesso a costruire che non è vero, che non è vero che abbiamo dato un permesso a costruire, ma abbiamo cambiato una destinazione ad una zona e l'abbiamo resa edificabile sulla discarica delle terre della ex fonderia Filiberti. Assolutamente la cosa più sbagliata e dovrebbe informarsi un po' il signore, a meno guardare quattro carte, non soltanto i sogni che fa. Allora, se la vediamo, questa è la cartina, aspettate che la metto un po' in centro, eccola qui. Allora, la zona gialla è la zona che abbiamo reso edificabile, la zona arancione è la zona che era destinata ai tempi a discarica. quella zona non è contaminata, tant'è che nel 2012 viene fatta questa scheda, dove si dice che l'area in questione risulta localizzata all'esterno del TUC, in ambito individuato di particolare valenza ambientale anche per il piano tecnico della provincia di Varese. quindi, non lo dice Franco Zeni, non lo dice l'amministrazione, lo dicono gli atti e lo dicono anche la storia, perché tutti quelli che conoscono quella zona, e se volete ve la rifaccio vedere, questa zona qua, aspettate che la vediamo, questo quadratino che si vede e poi questo piccolo qua, erano orti, attualmente questo qua è coltivato tutto ad orti, non c'è terra di fonderia, non c'è discarica, non c'è mai stata discarica lì, c'è stata dall'altra parte, grandissimo danno, che come ripeto nel 1986 ho fatto chiudere, il signore non è uno tra i firmatari della chiusura, benissimo, non sono state fatte alcune cose che dovevano essere fatte, non sono state fatte denunce ai tempi, però è stata chiusa, cintata e ricoperta. È stata zonata come sotto classe A3, questo è strappolato dal nostro PZT, dove ovviamente si dice che come tutte le zone di quella tipologia, ma non per la discarica, ma per la conformazione del terreno, deve avere l'indagine geologica prima di avere un permesso a costruire. Chiaro? Sotto lì non c'è discarica. Se il signor Busellato pensa che questa amministrazione abbia fatto questo reato, perché è un reato costruire sopra una discarica, lo invito a denunciare l'amministrazione alla Procura della Repubblica con i fatti, non con i fumetti, con i fatti. Bene, passiamo all'altra. Abbiamo tolto 25.000 metri di parco, no, non abbiamo tolto 25.000 metri di parco. Quello è un piano attuativo di iniziativa privata a carattere sportivo, ciò significa che uno sopra lì ci poteva costruire qualsiasi cosa, compreso un bel palazzetto, compreso che tra il palazzetto e il capannone, a parte la destinazione, con la questione del terreno non c'entra niente. Abbiamo diminuito un po', anzi parecchio, il consumo del suolo per questa cosa qui, perché prima non c'era neanche il vincolo del verde su quel terreno, per cui, come dice nel messaggio, altro messaggio bellissimo, chiaro di questa mattina, chiaro per chi lo scrive, non per chi lo legge, ripeto. è vero che si rinuncia ad un parco privato o meno davanti alla SIAC? No, non si rinuncia, si cambia destinazione dove ci saranno dei vincoli, dove ci sono i vincoli del fiume e dove verrà risparmiato il verde. Tant'è, ripeto, che su tutta la questione del PGT noi risparmiamo 5.000 metri rispetto al 2012, 5.000 metri quadri, quindi infondate, infondate queste accuse, ma infondate, infondate proprio perché sono altamente ridicole. Bene, non è mai stato un parco, non è mai stato un giardino, non è mai stato niente del genere, attualmente a verde, sì, è vero, è di un privato, sì, è di un privato che ci ha pagato le tasse per tanti anni, non mi sembra giusto che per mantenerla verde noi dobbiamo espropriare quel terreno. Non mi sembra giusto, non mi sembra giusto nei confronti, mi sembra più giusto che la valorizzazione del terreno sia tenuta in considerazione di quello in cui può essere usato un terreno, con la testa, come stiamo facendo le cose. perché si è rinunciato a oltre 600.000 euro di finanziamenti del PNRR per un asilo nido? Altra bugia, la chiamiamo bugia perché dire balle non si può, ma io dico balle, dai, facciamo questa cosa qui. Allora, intanto abbiamo rinunciato non a oltre 600.000, ma a 468, perché se si impara a leggere le carte. Quello che noi abbiamo chiesto per la costruzione dell'asilo nido erano 640.000, quello che ce ne sono stati dati, sono 468 che per raggiungere la costruzione dell'asilo nido dovevamo aggiungerci la differenza circa altri 200.000 euro. Qual è stata la scelta? La scelta è stata che siccome la nostra scuola ha la messa sottodimensionata, piuttosto che mettere un mutuo ulteriore sulla costruzione di un nido, dove tra parentesi vediamo che negli ultimi anni c'è un callo demografico delle nascite, ma fisiologico non solo per Cavaria ma per tutti gli altri paesi, abbiamo deciso che il 200.000 euro di mutuo è più conveniente per la popolazione farli sulla messa scolastica. E direte qual è l'alternativa però all'asilo nido? Bene, per l'asilo nido stiamo vedendo le nuove convenzioni, con anche il potenziamento del servizio comunale Tegalè, per cui anche il Tegalè porterà avanti dei nuovi progetti, che presto comunicheremo, per alleviare il discorso della cura dei bambini sugli asili nido, ma in questo momento stiamo intervenendo con Cairate, dove abbiamo già una convenzione aperta e dove la stiamo rimettendo aperta, con tutte le sovvenzioni possibili dei nidi gratis, non del nidi gratis perché non aderisce quello di Cairate, ma per quanto riguarda i nidi di IMS, eccetera, eccetera, per cui con molte sovvenzioni. Tengo a precisare che chi ha usufruito dei posti all'asilo di Cairate negli ultimi anni sono stati una media di 4-5 bambini. Stiamo provvedendo anche con Gallarate, Gallarate aveva fatto delle offerte inaccettabili per quanto riguardano, inaccettabili economicamente per noi e non perché Gallarate ce li ha fatti inaccettabili, erano inaccettabili per noi, per cui adesso stiamo ragionando su altre cose anche con altri paesi confinanti. Questa è stata la scelta, è stata una scelta politica opinabile, sicuramente sì, però abbiamo preferito spostare quei 200 mila euro, scusate, su una cosa esistente e che aveva necessità, piuttosto che andare all'oscuro su un progetto che all'inizio reputavamo ottimo, però se alla fine dovevamo metterci dei soldi, perché ovviamente come tutti sappiamo ci sono stati rincari, ci sono state tutte queste cose, è stato diminuito il discorso di PNNR, perché ripeto non c'è stato finanziato tutto il progetto ma solo 468 mila euro e questo è quello che abbiamo rimandato. Abbiamo preferito andare sul certo e usare quei soldi per fare la mensa che a scuola abbiamo portato a turno unico per cui i bambini hanno molto più tempo per mangiare perché il doppio turno praticamente prevedeva uno scambio dei bambini in cui dovevano correre a mangiare per poter far mangiare il secondo turno. Non ci piaceva assolutamente questa questione per cui l'abbiamo messa in questa maniera, abbiamo preferito iniziare una costruzione nuova per quanto riguarda il discorso dell'esistente. L'asilo nido non mettiamo, anzi sarà sicuramente un'idea da portare avanti, sì, sicuramente sarà un'idea da portare avanti, andrà comunque valutata con la crescita demografica che attualmente è altamente in decrescita. altra risposta, dunque alle prime due ho dato risposta, no alle prime tre domande ho dato risposta. Qui dice so che non avrò risposte come non le avranno i tanti che chiedono tante altre cose a questa amministrazione da tanto tempo. Bene, bene, bene. Io invito il signor impusellato a portare qui le persone che non hanno avuto risposte da questa amministrazione, anzi, lo invito pubblicamente al prossimo Consiglio Comunale a volere a fare le rimostranze a quelle persone che questa amministrazione non ha dato una risposta. Poi la risposta non è quella che una persona si accetta? Mi dispiace, mi dispiace tantissimo, però questa amministrazione segue le regole e non le promesse da bar o da campo da calcetto. Non si può nel 2023 promettere le cose che non si possono fare. E ripeto, abbia il coraggio il signore di fare quello che ha fatto il sottoscritto, di andare alla Procura della Repubblica e denunciare i reati. Se questo signore ha questo coraggio, che lo faccia tranquillamente. Questa amministrazione non ha nulla da nascondere, ma veramente nulla. È tutto più che trasparente e abbiamo sempre fatto quello che dobbiamo fare per il Paese. Quindi il signor Ruggero Bussellato dovrebbe smetterla di raccontare fandonie al Paese. Dovrebbe cominciare a mettere, a fare magari richiesta di accesso agli atti e capire quali sono le cose? Questo sicuramente sì. A chiedere, io non ho mai avuto una sua richiesta, anzi no, ho avuto una richiesta ma questione personale per cui lasciamo perdere, che è stata sistemata tra le varie cose, visto che non do mai risposte neanche a nessuno. E sarà stata sistemata anche le sue due cose che aveva, che non riuscì a sistemare. Vabbè, ma non fa niente. Ovviamente il signor Bussellato è già proiettato nella campagna politica per le elezioni del 2024. Ripeto, ci saranno le elezioni. Ognuno metterà in campo quello che deve mettere in campo. Noi in cinque anni abbiamo messo in campo il buon governo del territorio, 5 milioni di euro sul territorio e questa sarà la nostra campagna elettorale. Continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Insieme e per la gente, non per il proprio smisurato ego. Bene, non vi rubo altro tempo, vi riauguro buone vacanze, anche se sappiamo tutti che il 2 agosto è una data purtroppo funesta perché ricorda l'attentato di Bologna. Per la nostra nazione, per la nostra Italia è una data che va ricordata con il pianto sicuramente, però comunque vi faccio veramente i miei migliori auguri di buone vacanze e col mese di settembre ci saranno tante altre novità tra cui le nuove asfaltature. Ah, dimenticavo una cosa, visto che abbiamo rinunciato a più di 600 mila euro che non sono veri del PNNR per fare l'asilo nido, sappiate che ci sono stati assegnati e in parte già arrivati sul conto 1 milione e 450 mila euro per la regimazione delle acque di via 4 novembre Montello e Montegrappa. Il solito sbaglio la via con Monte Rosbera, Montegrappa. Per cui questa amministrazione, anche questa volta, ha portato a casa dei soldi per la popolazione, non per costruire palazzi. Per la popolazione per sistemare le questioni lasciate indietro da anni e anni. Bene, buona vacanza a tutti. Io sono sempre qua nel mio ufficio, qualsiasi persona voglia venire qui o qualsiasi domanda ci sia da fare, il sottoscritto e questa amministrazione ha sempre risposto. Buona giornata a tutti.